Oggi siete qui in Cittadella, avete credo un incontro o vorreste comunque un incontro, qual è il tema di questo sitino? Sono le richieste per la stabilizzazione in base alla legge 2.34 dei precari e anche le proroghe per gli incarichi che termineranno il 30 giugno quindi che aspettano anche loro risposte da parte della regione. C'è un ente di riferimento, un ospedale dove lavorano i precari o riguarda tutta la Calabria e che numero abbiamo di precari che attendono la stabilizzazione? La stabilizzazione riguarda tutta la Calabria, sono le varie aziende, Aspica, Lanzaro, Cosenza, Leao, stanno aspettando da parte della regione che inviano una nota con i requisiti da avere per la stabilizzazione e devono mandare questa nota a tutte le singole aziende. E invece per quanto riguarda il rinnovo, quindi i contratti scadenzi? Anche per quanto riguarda il rinnovo le aziende aspettano un input da parte della regione per sapere che fine faranno posto il primo luglio gli incarichi che non hanno ancora i requisiti per la stabilizzazione. Quante persone sono interessate? Si parla di oltre 1800 unità, in quanto in Calabria dopo 11 anni di commissariamento si sono perse ben 4000 unità operative e di precariato ne contiamo a oltre 1800 attualmente. Sono persone che hanno lavorato moltissimo nel periodo Covid? Sì, sono tutte persone che sono assunte durante il periodo Covid e che si sono sacrificate facendo doppi turni da quando è partita la pandemia ad oggi. molti sono positivizzati, hanno portato il virus anche nelle proprie famiglie, senza guardare questo rischio hanno continuato a lavorare per ottemperare l'emergenza Covid. Quando gli scade il contratto? La scadenza del contratto sarà il 30 giugno, quindi aspettiamo delle risposte da parte della regione per le proroghe. Oggi avete un incontro? Sì, oggi abbiamo un incontro, stiamo aspettando che ci fanno salire. Cosa chiederete? L'intenzione è quella di capire la circolare da inviare per la stabilizzazione dei precari e le proroghe per chi non ha i requisiti.